Questo video riguarda i migliori tre casco da moto per bambini. Il vincitore della qualità è il Rock Bros Casco B. Il strato esterno del casco bici bambino in PC è resistente all'urto. Il corpo è fatto di EPS che rende il casco leggero e riduce bene la vibrazione. Il tappetino morbido all'interno assorbisce il sudore e protegge la testa dal shock. Le prese aria applicate sul caschetto integrale per bambini consentono un ampio flusso d'aria fresca e una buona ventilazione. Il mento può essere staccato per ottenere una maggiore freschezza kunado fa caldo. Ci sono due taglie disponibili S48 53 cm e M53 58 cm giri il pulsante a retro del casco fino alla circonferenza adatta. Quest casco integrale per bimbi è adatto per tante attività dei bambini tali come bici, bici di equilibrio, scooter e pattinaggio a rotelle, ecc. La visiera parasole allungata protegge meglio gli occhi. Con la fibbia il casco è facile da regolare. Il tappetino morbido sulla sottogola offrisce una migliore comodità. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il ZJRA Gioventù Caschi. Il colore del display chiaro e diversi angoli di ripresa, i colori possono essere leggermente diversi. Secondo il colore del prodotto reale. Se si riscontrano problemi nel processo di acquisto e di spedizione, si prega di contattarci via e-mail, vi forniremo la soluzione migliore per voi entro 24 ore. Dovuto la luce e gli angoli di ripresa colore display potrebbe essere leggermente diversi colori. Secondo il colore del prodotto reale. Se ti piace più stile, è possibile cercare il nome del negozio e casco trovare più stili. Offriamo alta qualità e sicura offroad barra mountain bike barra moto barra casco. Se si vuole, si può guardare il nostro negozio. Il vincitore del premio è il BHR Casco Moto. Il casco da bambino sicuro e moderno, 816 Baby è il casco scooter da bambino che offre massima protezione senza rinunciare all'allegria. In BHR stile e sicurezza vanno di pari passo. Il nostro casco moto bambino dispone infatti dell'omologazione EC 22.051. 816 Baby è dotato di una pratica visiera antigraffio e di una chiusura a sgancio micrometrico sicura e funzionale. Grazie a 8 punti di ventilazione che consentono un'eccellente circolazione dell'aria al suo interno, il casco bambino BHR 816 Baby assicura un piacevole comfort anche durante i giorni più caldi dell'anno. Il casco dispone di una imbottitura interna removibile che può essere pulita e lavata in tutta semplicità. Il tessuto interno è inoltre anallergico e confortevole. La protezione dei nostri bambini è fondamentale ed è per questo che in BHR utilizziamo tecnologie avanzate per fornire caschi conformi ai più elevati standard di sicurezza e qualità senza mai tralasciare il design. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.